Quella digitale è sicuramente la più grande rivoluzione industriale che l'uomo abbia mai vissuto fino ad oggi. Dall'intelligenza artificiale al high performance computing, le grandi macchine che risolvono i problemi del mondo, dall'internet delle cose fino all'edge computing. Tutte queste tecnologie hanno di particolare che sono talmente penetranti e innovative che quello che fino a poco tempo fa ci sarebbe sembrata fantascienza in realtà diventa una quotidianità per tutti noi. Ma per riuscire a sfruttare al meglio questa innovazione, per riuscire a sfruttare al meglio la grande rivoluzione digitale c'è bisogno di competenze. Competenze che oggi esistono ma in misura molto ridotta. Bisogna pertanto lavorare nella direzione di creare, costituire un partenariato pubblico privato che possa sostenere lo sviluppo di queste competenze, magari a partire dalla definizione di un syllabus, un linguaggio comune che a partire dalle scuole, gli ETS, le università e il mondo del lavoro possa condividere quello che è il pensiero comune sulle professionalità del futuro e magari anche con coraggio pensando di affrontare il titolo quinto della Costituzione per restituire allo Stato una centralità di gestione della formazione.